Allora, innanzitutto questa è la carta, se la dà la regia me la mostrano anche nel monitor, la carta che è il risultato del lavoro di ieri, di cui abbiamo parlato prima, che cosa ne pensa? Penso, intanto permettimi di ringraziare la Barbara De Gani che ha parlato prima di me, che sono mesi che organizza questo evento, ma soprattutto un ringraziamento particolare e lo voglio fare a tutti coloro che ieri hanno partecipato ai tavoli. Io ho fatto un giro, ieri pomeriggio c'era un bellissimo clima, non si sentivano i cambiamenti climatici lì, c'era un bellissimo clima, la gente lavorava con spinta e credo che quello sia il miglior segnale. C'è voglia di fare ambiente, c'è voglia di fare il bene dell'ambiente, credo che questo lo dobbiamo sfruttare. Allora, non rivediamoci fra altri 16 anni, il messaggio che vi voglio dare è questo, non aspettiamo altri 16 anni per rincontrarci. La proposta che io faccio è di rendere questo tavolo annuale, cioè ogni anno ci dobbiamo vedere, ma ancora questo, attenzione, ancora questo non è sufficiente, perché se noi prendiamo quella spegna carta, che tu prendi un documento che è riassunto un po' delle cose che abbiamo fatto ieri e lo mettiamo in un cassetto e lo ritiriamo fuori, fra un anno abbiamo fatto niente in questi due giorni. Quella cosa lì ha senso se le risultanze dei tavoli da domani diventano un programma comune, diventano un programma per portare l'educazione nelle scuole, l'educazione ambientale nelle scuole, diventano un programma per fare azioni concrete e su questo il mio impegno c'è come c'è l'impegno di tutto il Ministero dell'Ambiente. A proposito di azioni concrete, io l'ho intervistata la prima volta quando si era appena insiedato al Ministero e mi ricordo che già allora il suo pallino, mi scusi il termine, è sempre stato quello dell'educazione ambientale nella scuola. Sono almeno 30 anni che aspetto questo momento, finalmente ce l'abbiamo fatta. Sì, io credo che l'unico modo che abbiamo per risolvere gran parte dei problemi ambientali che abbiamo nel nostro paese, che abbiamo in Europa, che abbiamo nel mondo, è insegnare ai nostri ragazzi a non fare gli errori che abbiamo fatto noi. Cioè questi che abbiamo visto nel bellissimo filmato di prima, sono errori veri che la mia generazione ha fatto, che le generazioni prima di me hanno fatto. Poi abbiamo mille scuse, come al solito le possiamo trovare, no? Non avevamo tutte le cognizioni scientifiche che oggi abbiamo per determinare quello che fa male, quello che fa bene. A volte erano scuse, facevamo finta di ignorare le conoscenze tecniche che avevamo, a volte era vero, no? Ne avevamo meno, effettivamente. Però oggi che le conoscenze scientifiche ce le abbiamo, che vengono moniti importanti da autorità religiose, come abbiamo sentito prima del Papa, ma da autorità civili, dalla società civile, dalle istituzioni. Ecco, se noi ignoriamo quel messaggio, questa volta commettiamo davvero un omicidio, perché stiamo parlando di questo. Quindi noi dobbiamo insegnare ai giovani che cosa vuole dire educazione ambientale, cosa vuole dire il rispetto dell'ambiente. Poi lo faranno meno, quello toccherà loro, però la nostra omissione sarebbe non spiegarglielo bene fino in fondo. E io questo lo sento come un dovere morale, lo sento come un dovere morale, cioè è un dovere etico-morale da parte nostra. Più di, per il mio ministero, più di tante altre cose che casomai ti portano sui giornali, ti fanno andare ai convegni. Ecco, io credo che questa invece debba essere la nostra missione principale. Ha detto una parola chiave, spiegarlo bene. Non è facile comunicare ed educare un tema così complesso e multidisciplinare? Guarda che questi capiscono molto prima di noi, sono velocissimi. Sono nativi digitali ma diventeranno nativi ambientali? Questa è la grande scommessa, cioè io vorrei che loro volessero bene all'ambiente quanto vogliono bene al loro cellulare. Mi basterebbe questo, guarda, se facessero questo avremmo già risolto gran parte dei problemi. O passassero un decimo del tempo che passano davanti a uno schermo, lo dedicassero a leggere un libro di educazione ambientale. Tranne certe trasmissioni che ovviamente vanno guardate sempre, insomma. Beh, le guardo anch'io quelle, alcune serie televisive ammetto le guardo anch'io. Sono in conflitto di interesse su questo tema. Da qualche giorno si è conclusa a Marrakesh una tappa fondamentale sul percorso di attuazione dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. La buona notizia è che il messaggio che è stato lanciato al nuovo Presidente Stati Uniti è bello chiaro, da qua non si torna indietro, quanto pare anche lui è d'accordo, lei come la vede. Ma intanto se noi diciamo Marrakesh qua, probabilmente lo sappiamo io e lei e altri dieci addetti ai lavori. Marrakesh è una COP, che non è dove si va a fare spesa, come potete immaginare, ma è la conferenza delle parti. La conferenza delle parti, questa è la ventiduesima, quella di Marrakesh, è un'assemblea di tutti i paesi dell'ONU, del mondo, sotto legge dell'ONU, che ogni anno si incontrano e dicono, ma come facciamo a combattere i cambiamenti climatici? Perché i cambiamenti climatici, cioè l'emissione di CO2, ragazzi, di gas serra, comporta un surriscaldamento del pianeta. Questo ormai non è più in discussione, cioè mentre fino a qualche anno fa qualcuno poteva negare questo effetto, oggi il 99,9% degli scienziati, cioè la totalità, contestami se dico una cosa sbagliata da scienziato, la globalità, dice che le emissioni di CO2 scaldano il pianeta, poi io da profano dico probabilmente il pianeta ha una sua evoluzione naturale, quindi nell'arco di un tempo molto più lungo può darsi che si scaldi lo stesso, ma in un periodo molto più lungo. Noi stiamo accelerando questo tempo, se lui si scalda in meno tempo, noi non ci adattiamo come specie, mentre se abbiamo molto tempo ci possiamo adattare, possiamo fare degli interventi, se questo tempo è breve, noi umani non riusciamo ad adattarci a questa nuova configurazione del pianeta, perché se si scalda vuol dire che tu avrai una parte del globo che non sarà più abitabile, perché una parte del globo avrà una siccità così forte che sarà inabitabile per uomini e animali. Avrai il livello del mare che si alza, perché i ghiacciai si sciolgono, il livello del mare si alza e il livello del mare che si alza, si scalda, si acidifica. Acidifica. Questo che cosa comporta? Comporta che una parte del territorio delle nostre coste spariscono. Alcune isole, quelle bellissime del Pacifico o dei Caraibi, sono destinate, ma non da qui a duecento anni, da qui a qualche decennio a sparire. Alcune infatti sono già state praticamente... Esiste, ragazzi, esiste una piccolissima isola che si chiama Kiribati, che è nell'isola del Pacifico, io non ci sono mai stato ma deve essere magnifica fra l'altro. Questa isola ogni anno perde un po' del proprio territorio, a tal punto che loro hanno già chiesto lo status di rifugiati ambientali all'Australia, perché sanno che da lì se ne dovranno andare. Allora, su questo tutti gli istanziati sono d'accordo, anche sugli effetti che, come avete capito, sono devastanti. Potremmo andare avanti ancora, no? Sì, sono milioni di conseguenze. Sì, di conseguenze. Allora, che cosa fanno gli stati? Ogni anno si ritrovano e dicono oh, ma che cosa possiamo fare tutti insieme per combattere i cambiamenti climatici? Dopo tanti anni che si discuteva esistono, non esistono, è colpa tua, no, è colpa tua, tu che cosa fai, fai troppo poco, tu fai troppo, tu fai delle cose che non servono. Finalmente, ve la sto banalizzando chiaramente, finalmente l'anno scorso a Parigi, 193 stati hanno firmato un grande accordo, dove si sono impegnati a fare delle azioni concrete per combattere il surriscaldamento del pianeta. Azioni concrete, cioè ogni paese è andato là e ha detto guarda io faccio questo, questo, questo e diminuisco le mie emissioni di tot. L'Europa è andata là, ha detto io faccio queste azioni e mi impegno entro il 2030 a diminuire le mie emissioni di CO2 di almeno il 40%. E così hanno fatto tutti gli altri stati, che è un evento storico, perché guardate, mettere d'accordo 193 stati, è un'impresa quasi impossibile, perché lì hai stati che hanno la dittatura, stati che sono democrazie, stati di sinistra, stati di destra, tutti d'accordo, tutti d'accordo su questo grande piano. Adesso bisogna vedere questo piano come lo porti avanti, perché tu sei andato lì e hai detto lo faccio. Allora, da adesso in poi tutte le COP che avremo, tutti gli incontri che abbiamo, servono per implementare quell'accordo e metterlo in funzione. Controllare che si vada avanti per step, come si è dichiarato. Fino al 2020, per intenderlo, fino al 2020 l'abbiamo dedicato a darci le regole di monitoraggio, di trasparenza, cioè come controllarsi l'uno con l'altro, come misurare la entità di riduzione di CO2, perché anche su questo non siamo d'accordo. No, assolutamente. Quanti soldi noi dobbiamo dare agli altri, perché ragazzi, il problema reale su questo è uno, che tu a quel tavolo hai paesi che ti dicono, bene Italia, tu è dal 1850 che stai inquinando, perché dal 1850 ti sei industrializzata, hai conquistato il tuo benessere, sono contento per te, hai dato casa ai tuoi ragazzi, li fai studiare, e quello mi guarda il paese africano e mi dice, e adesso che tocca a me? Mi dici che non posso più fare quello che hai fatto tu? Quindi io non posso fare le imprese, perché non posso far andare le mie imprese col carbone perché metto CO2? Eh no, i conti non tornano. E ha ragione. È il debito ambientale di cui parla il Papa nella sua enciclica. Il Papa ci dice, guardate i paesi industrializzati, svegliatevi, che voi avete un debito ambientale verso il resto del mondo e quel debito ambientale ha fatto sì che voi siete ricchi perché avete l'industrializzazione, loro sono poveri, ma paradossalmente i peggiori sintomi dei cambiamenti climatici li scontano proprio loro, perché sono i più poveri. E allora questo non torna più. Allora che cosa ci chiedono? Ci chiedono intanto di emettere ancora. Loro dicono, attenzione, tu diminuisci, ma da qui al 2030, visto che io devo portare fuori dalla povertà il mio popolo, devo costruire le case, io continuo a emettere. Poi emettono poco, ma continuo a emettere. Oh ragazzi, questo vale per i paesi africani, vale per la Cina. La Cina è un paese in via di sviluppo. Quindi loro dicono, poi non solo, ma tu mi dai dei soldi. Mi dai dei soldi, per migliorare, per andare sulle energie rinnovabili, per fare dell'efficientamento energetico. Ecco, questo è l'accordo di Parigi. Io a Marrakesh cosa ho registrato? Ho registrato la voglia di andare avanti. E questa è la cosa più bella. E questa è la cosa principale. Grazie Ministro. Ci ha raggiunti anche il Ministro Giannini. Buongiorno, benvenuta. Ministro Galletti. Questa giornata non è casuale. Due ministeri che da tempo collaborano per raggiungere un grande obiettivo. Educare alla sostenibilità ambientale, portare finalmente l'educazione ambientale nelle scuole. Un grande traguardo, un grande punto di partenza che tra l'altro inizia proprio con questa giornata e con questo incontro. Sì, intanto io voglio ringraziare Stefania, la Ministra Giannini, per la disponibilità che il primo giorno hanno dimostrato su questo progetto. Abbiamo trovato una sinergia fra i due ministeri molto forti. E non è facile, non è facile, perché i ministeri non sempre sono disponibili a lavorare insieme. Su questo invece si è trovata un'intesa molto molto, molto forte. Non hanno solo dato la disponibilità, hanno collaborato in termini di contenuti, perché poi loro sono più bravi di noi in questo, nel senso che noi abbiamo i contenuti dal punto di vista ambientale, ma loro poi ci devono insegnare come insegnarli ai ragazzi, che non è facile. E non è facile. Quindi siamo destinati su questo tema ad andare avanti insieme. E loro, come la mia struttura, ci sta mettendo molto impegno. La cosa più bella, e voglio dirla adesso che è arrivata Stefania, è che su questo abbiamo un progetto importante. Abbiamo un progetto davvero importante, abbiamo firmato un protocollo nei giorni scorsi, io, il Ministro Giannini ed io, nel quale destiniamo all'educazione ambientale per i prossimi anni, 20 milioni di euro. E io credo che su questo sia davvero possibile fare un progetto serio. Per correttezza dico, per correttezza lo dico, i 20 milioni vengono dal bilancio della Ministra Giannini, perché è un po'... Non mi voglio prendere meriti non miei, no, è un programma... Dovrebbe essere aperto, Ministro. 20 milioni di euro da qui al 2020 per fare un sacco di cose. Per fare, spero. Grazie, grazie al Ministro, grazie Gianluca, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, complimenti per questa bellissima iniziativa. È vero, il Miur è spesso cassaforte e cassa di molte iniziative, ma la nostra è un'azione di governo, veramente, mai come in questo capitolo che è, credo, determinante per il futuro del nostro Paese, cioè diffondere una cultura del rispetto dell'ambiente, della conoscenza dell'ambiente, che significa, guardate, due dimensioni fondamentali, quella del patrimonio forse più prezioso che abbiamo, che è il paesaggio, che è la fragile bellezza che caratterizza l'Italia, che l'ha resa e continuerà a renderlo punto di riferimento, meta e paese amato in tutto il mondo e dall'altro, perché ambienta anche questo il patrimonio storico, artistico e culturale che ha visto attraverso l'azione dell'uomo crescere un ambiente modificato dall'uomo, non sempre con modalità che sono state, appunto, di rispetto e che quindi è importante che i nostri giovani, i nostri ragazzi, a partire dai banchi di scuola, perché il nostro è un progetto ambizioso che va dalla scuola primaria fino a con la collaborazione con l'università e con gli enti di ricerca scientifica, che diffonda questa sensibilità. Quindi le risorse sono importanti, ma è soprattutto importante quello che diceva Gianluca, cioè una visione condivisa, un mettere a fattor comune le competenze, è vero, il nostro ministero ovviamente occupandosi di una grande famiglia, vi ricordo i numeri, perché ogni volta che li dico anche a me stessa vengono i brividi, 8 milioni e mezzo di studenti, un milione tra insegnanti e personale della scuola, 200 mila ricercatori, scienziati, professori negli enti e nelle università, quindi è un esercito straordinario della conoscenza che su questo tema può e deve avere una responsabilità primaria. Ovviamente il ministero dell'ambiente e il ministro Galletti rappresentano la competenza specifica, rappresentano l'azione diretta su tanti contesti anche complessi, io ho visto con mano, ho toccato con mano la possibilità di rendere alcuni nostri luoghi di bellezza sconvolgente, perso a Taranto, luoghi invece di sofferenza e di violazione di questo diritto fondamentale di essere nella propria terra con la serenità della sicurezza della salute e del rispetto dell'ambiente, ed è proprio in quei luoghi lì in cui, diremo poi dopo magari, i nostri due ministeri possono agire con maggiore efficacia. Ministro, come puoi immaginare un po' di tempo che manco da scuola, non sono la sola in questa sala. Dipende da quale grado di scuola. E non può comunque, qual è il punto della situazione attuale prima del vostro intervento riguardo all'educazione ambientale, educazione e sostenibilità nelle scuole italiane? Guardi, su questo tema come su molti altri, le scuole italiane da anni fanno tante cose belle, importanti e diffuse nel territorio, sarebbe assolutamente scorretto non riconoscerlo. Quello che si è fatto con la riforma 107, con la buona scuola, è di mettere però strutturalmente, sistematicamente l'educazione ambientale come uno dei principi fondamentali dell'educazione alla cittadinanza dei nostri studenti, in tutti gli ordini di scuola, e dare strumenti, risorse, ma anche insegnanti preparati, quindi formazione degli insegnanti su questi temi. Questo è un tema molto importante. E questo, guardi, se ne parla abbastanza poco, perché quando si parla di scuola, soprattutto di riforme della scuola, non è solo un male italiano, è un fenomeno diffuso, ci si concentra, è comprensibile sulle procedure, sui cambiamenti del meccanismo di assunzione, insomma, tutto quello che è stato oggetto di un dibattito anche molto acceso. In realtà, io invito, anche se non è mai un esercizio stilistico particolarmente affascinante, invito tutti giovani e meno giovani in questa sala a leggersi il primo comma della legge 107, in cui chiaramente si mettono insieme, guardate, dei valori, perché le leggi devono trasmettere questo. E uno di questi valori, insieme all'educazione e alla salute, insieme al recupero dell'idea che cultura scientifica e cultura umanistica sono il sale della nostra identità e costituiscono quel sapere unitario che la scuola deve continuare a sviluppare, l'educazione all'ambiente, l'educazione ambientale è un principio fondante. Quindi questa è una svolta veramente epocale, perché significa non mi affido alla buona volontà e al lavoro, in qualche caso, realmente molto virtuoso del dirigente scolastico, del professore di quella classe o di quella scuola, ma do al sistema educativo del paese una missione. E questo è quello che cerchiamo anche di fare insieme, ognuno naturalmente con i propri strumenti. Fondamentale però è la formazione dei formatori, che oltretutto deve essere anche continua, perché la tematica ambientale è in costante aggiornamento. Sì, non solo su questo tema, noi lo diciamo molto spesso, ma non lo diciamo ritualmente, lo diciamo perché è un tema dell'oggi, siamo di fronte a una società che cambia con una rapidità, direi talvolta drammatica, oppure affascinante a seconda dei punti di vista e dei momenti. La scuola deve essere anticipatrice del cambiamento, non può essere il vagone trainato alla fine, e allora deve essere una scuola aperta, flessibile, che soprattutto insegna ad imparare. Sui temi ambientali forse questo è vero fino in fondo e in maniera ancora più stringente. Quindi io credo che la parola chiave, anche qui, e l'azione chiave sia una formazione strutturale permanente in servizio di quelli che sono i portatori di conoscenza e i generatori di innovazione reali nel mondo della scuola, dall'elementare, dalla primaria, fino ai più alti gradi di istruzione, cioè insegnanti, docenti, professori e ricercatori che poi di mestiere fanno quello, cioè cambiare lo scenario e la visione della società per arrivare, nel caso ambientale, a una società migliore, che sia più rispettosa e che sia anche custode di quello che è il nostro patrimonio, il sistema ecologico in cui viviamo, grazie a una formazione e un aggiornamento che fa parte proprio dell'identità della professione stessa. Gli insegnanti italiani, lo ricordo ancora una volta, non avevano questo come diritto, perché non è un dovere, signori miei, per un insegnante, aggiornarsi ed essere formato, non è un dovere, è un diritto fondamentale che fa parte della professione di chi deve trasmettere conoscenza. Noi questo l'abbiamo inserito e tra le linee anche qui prioritarie c'è il tema dell'educazione ambientale, perché collegare le competenze e gli obiettivi di competenza dei ragazzi alla formazione degli insegnanti è l'operazione forse più ovvia, ma anche più inedita per il nostro Paese da farsi. Per chi si fosse unito soltanto ora a noi, ricordo che nel monitor stiamo vedendo quelli che sono i punti, il riassunto del lavoro che si è svolto ieri, dove più di 200 persone si sono unite intorno a dei tavoli per tirar fuori dei punti di vista, delle idee, delle strategie appunto da proporvi e da proporre in generale a tutti quelli che hanno a che fare con l'educazione ambientale. Dopo le consegno insieme al Ministro Galletti i risultati questa giornata. Ministro Galletti, per quanto riguarda l'approccio educativo alla tematica ambientale, lei la vede più come una tematica trasversale che deve contaminare tutte le materie oppure ci vuole la lezione di educazione ambientale, educazione alla sostenibilità? Io credo che la materia ambientale ormai tocchi tutte le materie, anzi io colgo l'occasione, sono ragazzi qua di quarta e di quinta superiore, quindi fra un po' andranno all'università e poi entreranno anche nel mondo del lavoro. A loro voglio dire una cosa, l'educazione ambientale non è solo il piccolo gesto, è importantissimo, non dico che quello non è importante, è importante chiudere l'acqua quando si fa la barba, spegnere la luce, quando esci dalle stanze, fare la cosa differenziata, tutte cose importantissime. Ma a loro dico una cosa in più, dico le tematiche ambientali per me, secondo me, secondo il mio punto di vista, faranno per forza parte di tutto il vostro percorso laborativo. Cioè il futuro del mondo industriale, commerciale, del mondo dei servizi, avrà una componente ambientale determinante. Ambientale, cioè se andrete in azienda, voi sarete protagonisti di una rivoluzione industriale in campo ambientale, del passaggio da un'economia lineare a un'economia circolare. Non vi verrà tanto chiesto, quando sarete dei lavoratori, di produrre di più, vi verrà chiesto di produrre diversamente, in modo diverso, risparmiando materie prime, guardando di più alla composizione del materiale per quanto riguarda la sua riciclabilità, nei percorsi produttivi risparmiare energia e quell'energia, quel calore che si sprigiona dalla produzione, riuscire a rimagazzinarlo e riutilizzarlo. Cioè, avere una consapevolezza ambientale per voi è indispensabile per il vostro futuro lavorativo. Quindi non è solo il piccolo gesto, ma è la mentalità ambientale che per voi sarà indispensabile. E più ce l'avrete, io sono convinto, più voi riuscirete a essere competitivi nel vostro mestiere. Assolutamente, i dati lo confermano. Quindi diventa una materia a tutti gli effetti questa. Altra cosa che vi voglio dire, ragazzi, e questo è più etico-morale, ma ci tengo. Allora, questo è uno di quei temi dove noi siamo obbligati a collaborare. Cioè, la grandezza dei temi ambientali è questa, che tu qualsiasi altro tema te lo puoi affrontare individualmente o come comunità locale o regionale o nazionale. Questo tema qui sei obbligato a prenderlo con tutto il mondo. Guardate, questo è un cambio di prospettiva. Un cambio di prospettiva. Io riflettevo l'altro giorno sul problema degli immigrati, oggi in Europa. C'è chi pensa di poter, se non voglio dare un giudizio, no? Però alcuni paesi fanno il muro. Dicono io il mio benessere me lo metto fra quattro mura, qua, me lo difendo dalla povertà che è fuori. Io lo contesto, però può essere una soluzione. Funzionasse. In campo ambientale, sta roba qui non funziona. Perché quello che inquina il tuo vicino, puoi fare tutti i muri che vuoi, ma a casa tua ti arriva. Allora tu devi andare dagli altri, devi andare dagli altri e farlo con lui. Cioè il tema forte di questa cosa è che bisogna stare insieme. Siamo tutti sulla stessa barca. Ed è nel contempo, da un punto di vista etico-morale, difficilissimo ma bellissimo, perché unisce i popoli. Cioè io quando vado a queste conferenze mondiali, vedo i popoli che indipendentemente da come la pensano, dalle maggioranze che li governano, dalle dittature, ci parliamo. Ci parliamo perché parliamo di temi che interessano tutti. Ecco, questo deve diventare anche fra di noi il modo di affrontare i temi ambientali, perché ci cambia la prospettiva. Giustissimo. Per quanto riguarda il contributo, poi magari parliamo nel dettaglio della scuola con il ministro Giannini, per quanto riguarda invece il contributo del Ministero a una delle piccole problematiche, se vogliamo, nell'insieme di tutto quello di cui stava parlando lei, dell'efficientamento energetico degli edifici italiani. Quali sono le prospettive, a breve? Noi su questo abbiamo fatto... Allora, un'altra cosa, noi parliamo, abbiamo una cattivissima abitudine come italiani, quella di parlare sempre male del nostro paese. Noi ci dipingiamo sempre come i peggiori del mondo, soprattutto quando andiamo all'estero. Ecco, in campo ambientale non lo siamo. O abbiamo mille problemi, di cui io alcuni mi vergogno, se penso al 40% di rifiuti che mandiamo ancora nelle discariche, se penso alle bonifiche anche di interesse nazionali, grandi bonifiche che dobbiamo ancora fare al dissesto idrogeologico. Abbiamo ancora mille problemi da affrontare, li stiamo affrontando, ce la mettiamo tutta, vedremo se riusciamo a risolvere. Però su tante cose andiamo bene. Noi siamo il paese al mondo, al mondo, che produce più energia rinnovabile col fotovoltaico. Abbiamo il 40% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Siamo fra i paesi che hanno la percentuale più alta in Europa. Siamo leader nell'efficientamento energetico, perché ci abbiamo investito molto. Abbiamo fatto l'eco bonus, abbiamo molti fondi, penso alle scuole, abbiamo il fondo Chioto di 350 milioni per i comuni che vogliono efficientare le proprie scuole. Stiamo investendo molto e soprattutto abbiamo, grazie a questa politica che abbiamo avuto, abbiamo sviluppato una filiera produttiva importante. Quindi non solo siamo leader nel target, nel raggiungimento dell'obiettivo, ma siamo anche leader nella produzione dei materiali che ci serve per fare quella roba lì. Quindi noi siamo su questo messi bene, poi come al solito dobbiamo stare sulla palla e continuare ogni giorno a valutare, vedere. A raddrizzare la barra. Ministro Giannini, questo percorso come si inserisce nell'ambito scolastico, quello dell'efficientamento energetico? Io credo che se c'è una cosa che è stata fatta in questi due anni e mezzo nel settore scolastico, è un dato oggettivo, parlano i numeri, ma parlano anche gli oggetti, le cose che possiamo vedere, cioè gli edifici scolastici e il gigantesco investimento sull'edilizia scolastica. È un cammino lungo perché le scuole in Italia, ve lo ricordo, scuole intese come edifici sono 42.000 circa. Siamo intervenuti su tre fondamentali temi. Quello della sicurezza, perché è un tema prioritario, è un tema che riguarda la vita dei nostri figli, la loro salute, la loro adeguatezza, quella degli insegnanti e quindi è la priorità assoluta e i fatti drammatici che hanno colpito anche lì intervenendo con il Ministro Galletti nelle zone terremotate ci siamo resi conto di quanto sia importante avere edifici adeguati o di quanto sia drammatico non averli. Ma siamo intervenuti anche sulla bellezza, sull'adeguatezza degli spazi educativi e sulla loro efficienza in base agli stessi principi che ha detto adesso il Ministro e che riguardano tutti gli ambienti, tutti i luoghi dell'abitare. La scuola prima di tutti perché se noi dobbiamo e vogliamo mettere contenuti e pratiche educative ispirate al rispetto dell'ambiente dobbiamo farlo sempre più in luoghi che essi stessi siano ispirati alla mancanza di spreco assoluto. Io vi invito se potete a visitare le molte scuole ormai che sono frutto di questo processo di edificazione o di efficientamento, quindi ristrutturazione di scuole già edificate, ispirate a questi principi. Ieri ne abbiamo inaugurate col Presidente del Consiglio a Selva Candida, a nord-ovest nella periferia di Roma, una scuola veramente bellissima, bellissima per la luce, bellissima per lo sfruttamento degli spazi, ma bellissima anche per questo perché è una scuola che risponde a questi principi di totale mancanza di spreco e diciamo sfruttamento al meglio del rapporto tra edificio e ambiente. È una scuola che il quartiere di Selva Candida aspettava da vent'anni, c'era una signora lì che ha detto al Presidente Renzi, io nel 76 quando lei aveva un anno ho fatto il blocco stradale perché l'amministrazione doveva fare questa scuola, doveva fare questa scuola e non la faceva. È stato possibile, non per miracoli e per carità azioni divine, ma è stato possibile per un'azione umana che è derivata dallo sblocco del patto di stabilità e dei molti finanziamenti che dal 2014 sono stati messi. Ecco, questa è una scuola modello, ma ce ne sono moltissime in Italia, ce ne sono moltissime che si ispirano a questi principi. Quindi io credo che rendere il contenuto e i contenitori sul piano educativo in totale coerenza e in sintonia con questi principi sia il primo passo per rendere la nostra società migliore, perché guardate la lotta allo spreco, insomma come è stato fissato magistralmente dall'enciclica di Papa Francesco è forse la battaglia più importante che dobbiamo fare, riguarda l'ambiente ma riguarda anche tante altre dimensioni della nostra vita e la scuola è la base di tutto quanto. Grazie Ministro, invito per favore a portare il tavolo della firma di questo storico protocollo. Abbiamo preparato un tavolo importante come appunto questo protocollo, questo protocollo d'intesa tra i due ministeri, uno stanziamento, lo ricordiamo, di 20 milioni di euro al 2014 per portare finalmente l'educazione ambientale nelle scuole italiane. Abbiamo il protocollo con le penne da firmare, nel frattempo ai ministri consegno quella che è la carta all'educazione ambientale e alla sostenibilità che è emersa dal lavoro propedeutico di ieri. Ovviamente vi verrà consegnato anche tutto l'estrato più, questo è un sunto del sunto del sunto, vi verrà consegnato qualcosa di più approfondito. Abbiamo i protocolli, il protocollo d'intesa da firmare, quindi facciamo una firma rappresentativa, simbolica su questa carta che rappresenta il protocollo. No, 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 il protocollo quello con l'assegno allegato l'abbiamo già firmato. Ah, ci ha già messo l'assegno ministro? Sì, sì. Assegno circolare, così? Tutte le iniziative che abbiamo detto sono già partite in questo primo anno scolato. Speriamo non sia scoperto, dice il ministro Galletti. Grazie, grazie di cuore al ministro Giannini, grazie al ministro Galletti e finalmente parte l'educazione ambientale in Italia. Prego.